Portare tre atleti alle finali nazionali elite di Chianciano Terme non è roba da poco, lo fa la pugilistica lucchese che cala tre buone carte sul tavolo tricolore. Alessandro Gatti, nei 60 kg, che nel 2024 passerà professionista, è pugile tecnico ma anche boh combattente, sa che troverà avversari piuttosto ostici. Nulla vieta però di sperare, ci vorrà un pizzico di fortuna anche nel sorteggio previsto venerdì sera, di poter approdare in semifinale che, come sappiamo, significa conquistare perlomeno il bronzo. Non sarà facile. Va a fare esperienza ad arricchire il suo bagaglio pugilistico anche il giovanissimo Ashraf Lecal, ripetutamente campione toscano-italiano a livello giovanile. Anche nella categoria dei 67 kg si partirà dagli ottavi di finale. Ashraf e la sua danza elegante sul quadrato dovranno combinarsi anche con una buona tenuta fisica e agonistica. Non basterà dimostrare qualità, bisognerà metterci un pizzico di cattiveria che non guasta mai e di solito colpisce i giudici. Vetrina importante anche per Miria Rossetti-Busa in campo femminile nella categoria dei 48 kg, dove ci sono almeno due atlete superiori per cifra tecnica ed esperienza. Erika Prisciandaro, campionessa europea del 22, e Roberta Bonatti, che è già esordito tra le professioniste. Due Everest da scalare per la bravissima Miria, di gran lunga la più giovane, classe 2005, che deve sperare in un buon sorteggio, anche perché essendo solo otto le atlete in Lizza, vincere il primo match vorrebbe dire medaglia. Venerdì la partenza per Chianciano Terme dei tre ragazzi lucchesi e del loro maestro e mentore Giulio Monselesa. Il resto, da sabato, lo dirà solo il ring.